Ben ritrovati alle previsioni meteo di mercoledì 12 aprile. Affoggiaci in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni per 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16 gradi, la minima di 10. I venti al mattino forti, moderati in serata. Per ora è tutto, buon proseguimento!